Ma buonsalve e benvenuti in questo nuovo video, video assolutamente non previsto ma tant'è, sono le 3 e 46 si è appena concluso il panel dedicato ai Marvel Studios ovviamente al comicon di San Diego, scusate per il tono di voce basso ma appunto è tardino perché dico che questo video è assolutamente non previsto? perché appunto si è tenuto il comicon di San Diego ed è tuttora in corso, non avevo però intenzione di fare video a riguardo volevo semplicemente aggiornare il più possibile magari nelle storie di Instagram con qualche post di recap o anche su TikTok non avevo intenzione di fare reaction o anche commentari vari ma in questo caso dovrò fare un'eccezione perché teoricamente al comicon di quest'anno i Marvel Studios avrebbero dovuto annunciare poca roba e invece hanno annunciato tipo l'anima anche degli mortacci di Kevin Feige e quindi per forza ne dobbiamo parlare per di più purtroppo non potrò mostrarvi magari le mie reaction ai vari trailer che hanno pubblicato su She-Hulk, Wakanda Forever perché appunto li ho visti per fatti miei, non mi sono registrato, fare una reaction finta non mi sembra il caso magari comunque parleremo dei vari trailer e della mia opinione a caldo comunque il panel dei Marvel Studios, soprattutto comunque parlerò dei film e delle serie TV dei Marvel Studios lascerò perdere la sezione animata, ne ho già parlato allo sfinimento su Instagram se volete sapere quello che è successo appunto ieri riguardo ai vari annunci di Marvel Studios Animation potete vederli tranquillamente su Instagram ma che cosa è successo proprio ieri? ieri è successa una cosa molto strana ieri i Marvel Studios hanno registrato presso l'European Union Intellectual Property Office se ho dovuto leggerlo perché era un nome assolutamente assurdo hanno registrato diversi trademark tra cui Avengers Secret Wars Avengers The Kang Dynasty poi anche Thunderballs Capitan America New World Order e un'altra robettina, sì, Multiverse Saga tutti i titoli che pensavamo avremmo visto o appunto al Comic-Con annunciati al Comic-Con o al D23 io ero più propenso a pensare al D23 per quanto comunque registrare dei trademark il giorno prima effettivamente dell'uscita del tuo panel al Comic-Con è un pochettino sospetto ma mai mi sarei aspettato che avremmo visto non solo questi titoli annunciati ma anche il finimondo partiamo dal presupposto che Kevin Feige non solo ha annunciato tutta la fase 4 che è stata palesemente modificata adesso la fase 4 si concluderà quest'anno con Wakanda Forever di cui è uscito anche il trailer e magari ne parliamo più avanti hanno anche annunciato tutta la fase 5 o quasi secondo me manca qualche robettina magari a tema mutanti che magari si terranno appunto per il D23 e anche parte della fase 6 mio Dio hanno annunciato anche la fase 6 ora cerchiamo di andare in ordine con tutti i vari titoli della fase 5 partiamo con Ant-Man Quantumania che uscirà appunto a febbraio 2023 c'erano sul palco tutti i vari attori c'era il regista Peyton Reed hanno mostrato il trailer noi però non l'abbiamo visto perché era un'esclusiva del Comic-Con a quanto pare però perché comunque alcune notizie notizie e alcune informazioni sul trailer sono arrivate ci saranno tre villain nel film il nostro Karo Kang interpretato da Jonathan Major ci sarà un villain interpretato da Bill Murray e anche Modok Modok che non sarà la versione tipica del personaggio ma sarà invece una rivisitazione del personaggio ossia il calabrone del primo Ant-Man che sarà appunto rimasto nel Regno Quantico per vari cazzi si sarà trasformato in Modok quindi ci sarà tutto bello deturpato in viso e quindi ci sarà anche Modok nel film io sono super in hype hanno mostrato anche il primo poster di Ant-Man Quantumania che è un po' una merda ma ci sta poster che per di più mostra Stature ossia la terza Ant-Man che dovrebbe essere Cassie la figlia di Scott Lang insomma tanto tanto hype andiamo avanti con Secret Wars che invece dovrebbe uscire in primavera 2023 si sa ancora poco dovrebbero esserci parti svolte durante il blip ci dovrebbe essere quindi Unique Fury anche Skrull dovrebbe anche essere presente il nostro caro War Machine ossia Rodi quindi rivedremo Don Ciddle ritornare nei panni di War Machine ma si sa poco altro andiamo avanti con Guardiani della Galassia volume 3 e qui hanno mostrato un bel po' di robettine hanno anche in questo caso mostrato una sorta di clip di teaser del film che noi non abbiamo visto sappiamo però che il villain del film sarà l'alto evoluzionario interpretato da un attore che ha un nome assurdo adesso ve lo vado a cercare un attimo Chukwu di Iwuji che è un attore che ha già lavorato con James Gunn in Peacemaker ed è anche un attore molto bravo ed è salito sul palco vestito proprio da alto evoluzionario James Gunn ha confermato che questo film sarà mostrerà per l'ultima volta questa formazione dei Guardiani durante appunto la clip si è vista anche una Gamora capo dei Ravagers e il film dovrebbe praticamente raccontare il passato di Rocket che sarà appunto collegato all'alto evoluzionario che è una sorta di scienziato pazzo per chi non lo conoscesse a livello fumettistico quindi appunto questo personaggio sarà strettamente collegato al passato di Rocket che secondo me in questo Guardiani della Galassia 3 moriranno non dico tutti ma almeno uno o due personaggi ci lasceranno per sempre io di questa cosa veramente sto morendo internamente da notare che ci sarà anche il cane cosmo in Guardiani della Galassia 3 doppiato da Maria Bakalova attrice che io ho amato in Borat 2 sono contentissimo che stia lavorando così tanto attrice che per di più aveva anche lavorato in Gomorra anzi mi sa che si era fatta conoscere proprio in Gomorra quindi stracontento di questo ed è salito sul palco anche il nostro caro Will Polter che interpreterà Adam Warlock poi andiamo avanti con Echo che in estate 2023 previsto per l'estate 2023 sappiamo veramente poco su questo progetto non me ne frega assolutamente niente di questo progetto aggiungerei l'unica cosa che bene o male mi interessa è il ritorno di Vincent Donofrio e di Charlie Cox che dovrebbero essere confermati non ne hanno parlato nel panel però è una notizia che gira da un bel po' di tempo e la fonte era anche attendibile o Hollywood Reporter o Deadline comunque prendetela per buona sta notizia perché dovrebbe essere ufficiale andiamo avanti con Loki Season 2 che dovrebbe essere sempre in estate 2023 la stanno girando proprio in questo momento anche in questo cazzo si sa veramente poco poi The Marvels luglio 2023 anche in questo caso la stanno girando proprio in questo momento si sa poco però io sono abbastanza curioso perché la post credit di Miss Marvel mi aveva abbastanza incuriosito poi abbiamo Blade che Deadline questa volta ha cannato perché Deadline aveva riportato un paio di giorni fa che il titolo ufficiale fosse The Blade invece no è Blade uscirà novembre 2023 e anche in questo caso si sa veramente pochissimo non c'era neanche Martial Ali a meno che non me lo sia perso ma non credo non è neanche salito Martial Ali sul palco ma vabbè andiamo avanti con Ironheart anche in questo caso si sa veramente poco autunno 2023 sappiamo però che Riri Williams comparirà in Wakanda Forever e infatti compare proprio nel trailer di Wakanda Forever ma ne parliamo più avanti e andiamo avanti con Agatha Coven of Chaos quindi la nuova serie tv su Agatha Harkness che dovrebbe arrivare in inverno 2023 barra 2024 qualunque cosa voglia dire e anche in questo caso sappiamo pochissimo ma anche qui veramente non è che ci sia tantissimo bisogno di una serie tv su Agatha Harkness ma vabbè e arriva la bombettina Daredevil Born Again in primavera 2024 la nuova serie tv di Daredevil mentre mi arriva una ciglia nell'occhio scusate ragazzi è un casino questo video ma ci sta perché è un casino tutti gli annunci che hanno fatto quindi ci sta un po' di caos però veramente questa ciglia mi sta uccidendo appunto nuova serie tv su Daredevil che ovviamente vedrà il ritorno di Charlie Cox e di Vincent D'Onofrio nei panni di Kingpin il titolo Born Again è una citazione al fumetto scritto da Frank Miller la serie avrà 18 episodi almeno la prima stagione scelta stranissime la prima serie tv Marvel Studios così lunga che addirittura ha 18 episodi sono veramente curiosissimo anche perché abbiamo già visto nel trailer di Shulk che Daredevil avrà il costume giallo e rosso e io sto veramente godendo poi abbiamo Capitan America New World Order a maggio 2024 sappiamo anche in questo caso veramente poco sappiamo ovviamente che Sam interpreterà Capitan America si vocifera magari il ritorno di da un bel po' di tempo del nostro caro Steve Rogers quindi Chris Evans ma questo non è assolutamente ufficiale abbiamo il nome del regista del film Julius Ona ossia il regista di The Cloverfield Paradox a me sto regista non dice veramente nulla anche perché ha fatto pochissima roba ma diamoli un minimo di fiducia anche se comunque di Sam nei panni di Capitan America mi interessa veramente pochissimo ma perché non mi ha conquistato in quella merda di serie che è The Falcon e The Winter Soldier concludiamo con Thunderballs Luglio 2024 anche in questo caso ricordo un vecchissimo articolo di Deadline credo in cui si parlava dei possibili personaggi che andranno a comporre i Thunderballs quindi si parlava di Elena Belova del Barone Zemo di Winter Soldier di Abominio insomma i Thunderballs sono la Suicide Squad in salsa Marvel quindi vedremo appunto dei personaggi non dico cattivi ma comunque personaggi che hanno avuto un ruolo un pochettino negativo all'interno dell'MCU ma che magari si sono a un certo punto redenti vedasi appunto Bucky il capo nei fumetti dei Thunderballs dovrebbe essere il generale Ross purtroppo l'attore che interpreta il generale Ross ci ha lasciato qualche mese fa non so come la gestiranno può darsi anche che il titolo Thunderballs il nome del gruppo Thunderballs sia proprio un modo per commemorare il generale Ross perché appunto il soprannome di Ross è Thunderbolt quindi ci sta come robettine e si conclude così la fase 5 anche in maniera abbastanza veloce ma sono sicuro che mancano un botto di robe tipo tutte tutti i film e le serie a tema mutanti che probabilmente annunceranno al D23 e al Disney Investors Day e arriviamo finalmente alla fase 6 perché sì sti pazzi hanno annunciato anche la fase 6 l'inizio della fase 6 e partiamo con i Fantastici 4 a novembre 2024 non abbiamo ancora un regista doveva essere ai tempi il nostro caro John Watts che ha abbandonato il progetto e sono anche contento perché John Watts è un regista molto bravo quando si tratta di mettere in mostra i sentimenti dei personaggi e quindi con i Fantastici 4 ci può anche stare ma a livello di action è un po' un cagnaccio e No Way Home l'ha dimostrato perché mamma mia nelle mani di un regista molto più capace le sequenze con i tre Spider-Man avrebbero reso 10.000 volte di più ma tant'è comunque John Watts ce lo siamo tolti dalle palline John Watts che per di più dovremmo ritrovare nella nuova trilogia dello Spider-Man con Tom Holland che non hanno minimamente citato in questo panel ma ci sta anche perché comunque è robasoni ma tant'è comunque non sappiamo ancora il regista di Fantastici 4 e non sappiamo neanche il cast aspettiamoci il nuovo cast al D23 quindi lo annunceranno in pompa magna ci sono un botto di rumor che riguardano il cast di Fantastici 4 vedasi Jason Seagel che dovrebbe interpretare la cosa quindi sto parlando di Marshall di How Met Your Mother si è parlato anche di Jamie Dornan nei panni di Reed Richards insomma il casino più totale ma ne parleremo quando effettivamente la notizia sarà ufficiale perché adesso è arrivata la bombettina nella fase 6 ci saranno due film degli Avengers a distanza di pochissimi mesi e sto parlando di Avengers The Kang Dynasty a maggio 2025 e Avengers Secret Wars a novembre 2025 la saga la nuova macro saga è già stata ribattezzata Multiverse Saga e qui si incomincia a delineare una bella robettina perché probabilmente la multiverse saga si concluderà con appunto Avengers Secret Wars Secret Wars è un evento fumettistico molto interessante perché vede lo scontro tra diversi universi attraverso le incursioni termine già stato utilizzato in Multiverse of Madness e alla fine di Secret Wars il multiverso viene sostanzialmente azzerato e è stato un bello stratagemma da parte della Marvel fumettistica per introdurre nell'universo canonico quindi Terra 616 alcuni personaggi interessanti che però facevano parte di altri universi vedasi Miles Morales che faceva parte dell'universo Ultimate dopo Secret Wars è andata a finire in Terra 616 quindi mi aspetto una robettina del genere magari in The Kang Dynasty ci sarà uno scontro con Kang appunto che è strettamente collegato al multiverso in Secret Wars magari con Destino personaggio veramente importante nel fumetto Secret Wars e alla fine di questo scontro tra universi il multiverso si azzera e i personaggi che abbiamo già conosciuto magari in altri film non ancora annunciati vedasi magari gli X-Men vedasi magari i Fantastici 4 che potrebbero tranquillamente far parte di un altro universo andranno poi a confluire su Terra 616 gli X-Men non lo so perché la post-credit di Miss Marvel lascia intendere che i mutanti già esistano nella terra principale in Terra 616 magari i Fantastici 4 potrebbero tranquillamente far parte di un altro universo mi aspetto comunque dei personaggi nuovi importanti introdotti in un film che faranno parte però di un'altra terra vedremo ma tant'è qui veramente hanno annunciato il bordello non me lo sarei mai aspettato e qui la domanda sorce spontanea che cazzo annunceranno al D23 è abbastanza probabile che punteranno sui casting quindi mi aspetto il cast dei Fantastici 4 mi aspetto anche Wolverine insomma tante belle robettine tante belle bombettine mancano ancora mancano ancora tante informazioni per esempio su Blade su Eternals 2 insomma ci sono un bel po' di film che si sono lasciati indietro in questo panel però porca miseria la roba che hanno annunciato non abbiamo ancora parlato dei trailer che hanno pubblicato hanno pubblicato il trailer di She-Hulk trailer che mi è veramente piaciuto forse anche di più del primo che mi aveva veramente soddisfatto la CGI è ancora traballante ci sono momenti in cui è veramente migliorata altri in cui fa veramente cacare ma è un problema che ci porteremo avanti per un bel po' perché a quanto pare moltissimi addetti agli effetti visivi si stanno proprio lamentando di questa cosa che la mole di lavoro è talmente grossa e tutta la mole di annunci che hanno fatto proprio oggi lo conferma va ovviamente inficiare sulla qualità della CGI e purtroppo noi ogni volta che critichiamo la CGI non ci rendiamo conto che è fatta da dei cristiani cristiani che hanno bisogno di mangiare di dormire e che purtroppo non lo fanno proprio perché hanno troppo lavoro da fare quindi non riesco neanche a dare più di tanto la colpa a chi realizza gli effetti visivi è un problema dei Marvel Studios dovrebbero o prendere più gente o fare meno progetti e secondo me la seconda opzione sarebbe anche meglio perché sta anche abbassando drasticamente la qualità dal punto di vista della scrittura e la scrittura non costa un cazzo quindi si vede anche la nostra cara Titania interpretata da Jamila Jamil la nostra Tahani di The Good Place attrice che io veramente apprezzo tantissimo che interpreta questa sorta di strappona con i superpoteri veramente Titania e un donnone con la superforza che mi ha abbastanza convinto ho però goduto come non mai nel finale del trailer dove vediamo il nostro caro Daredevil interpretato da Charlie Cox con appunto il costume nuovo rosso e giallo e lì veramente i feels sono saliti tantissimo mi è piaciuto anche un botto il trailer di Wakanda Forever trailer che in realtà è partito in maniera molto strana era più che altro partito come un trailer a mo' di concept era più che altro un trailer che doveva suscitarti emozioni più che raccontarti la trama del film poi nella seconda parte diventa molto più diciamo stile Marvel molto più action però mi ha veramente convinto trailer veramente particolare mi ha dato moltissime vibes alla Avatar moltissime scene mi sembravano proprio prese dal film di James Cameron si vede palesemente il funerale di T'Challa si vede anche Namor e Riri Williams quindi Ironheart e mi aspetto un bel po' di robettine il trailer poi finisce a bomba con il nuovo Black Panther che ovviamente non hanno mostrato ci sono una valanga di rumor su chi si cieli dietro la maschera di Black Panther sono anche arrivati un bel po' di leak di cui non parlerò nonostante comunque gli abbialetti non vi preoccupate non vi anticiperò assolutamente nulla comunque il trailer mi ha convinto abbastanza certo l'estetica il look di Namor non c'entra un culo con il fumetto in questo caso hanno optato più per un look azzeco e ci sta però dovremmo vederlo in sala sulla carta mi sembra abbastanza caruccio però voglio vederlo effettivamente in sala e detto questo che altro dire nei riguardi di questo panel di Marvel Studios al Comicon di San Diego ho goduto come non mai spero di non essermi dimenticato niente ecco ultima cosa non sappiamo quale sarà la nuova formazione degli Avengers qui Kevin Feige non si è minimamente sbilanciato e vorrei ben vedere voglio scoprirla più avanti magari nel nuovo nel primo anzi trailer di Avengers The Kang Dynasty speriamo di non saperlo prima perché non mi voglio anticipare troppa roba già hanno fatto veramente il casino più totale ma adesso voglio sapere la vostra fatemi sapere qua sotto con un commento qual è l'annuncio che vi è piaciuto di più che vi ha fatto più godere di questo panel dei Marvel Studios o quello che magari vi è piaciuto di meno spero di non essermi veramente dimenticato nulla scusatemi ragazzi se sono veramente stato super caotico ho cercato di rendere il video il più fruibile possibile ma sono anche le 4 di notte in questo momento mentre sto girando c'ho un sonno della miseria ma volevo girare questo video così sull'onda dell'entusiasmo io comunque vi lascio vi saluto noi ci vediamo alla prossima ciao a tutti ragazzi ciao a tutti ciao a tutti